Oggi vi faccio vedere qualcosa di diverso. Siccome in tanti mi avete detto che parlo spesso di Canon e io ho risposto è vero, io ci lavoro tutti i giorni con le macchine di Canon e quindi è anche normale che io ne parli molto spesso e qualcuno mi ha detto ma tu Nikon la ho di proprio. In realtà non è così, a me Nikon piace moltissimo per cui oggi vi faccio vedere le macchine Nikon che possiedo perché io ho delle Nikon. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Come detto io non sono un content creator full time, io sono un fotografo. Io di mestiere faccio il fotografo, non i video sul canale. Quindi nel momento in cui io lavoro ho scelto di lavorare con Canon e quindi ho tutta strumentazione Canon e viene molto normale che io vi parli della strumentazione che uso tutti i giorni perché appunto la uso ogni giorno e quindi la conosco meglio rispetto ad altre cose che magari mi chiedete ma che conosco di meno. Quindi se ho provato qualcos'altro posso rispondervi. Se mi chiedete che cosa devo comprare è evidente che io vi indirizzo su qualcosa che conosco bene e da lì è normale che io parli tanto di Canon. Abbiate pazienza ma non mi metto a comprare Nikon e Sony solo per fare le recensioni sul canale. Ancora no. Oggi però vi faccio vedere delle fotocamere Nikon che ho usato in passato e che possiedo ancora. Sono ancora qui quindi talvolta posso ancora decidere di usarle se proprio me ne viene voglia. Prima di andare avanti però io ricordo a tutti quanti di iscriversi cliccando il bottone qui sotto proprio per il fatto che non parlo solo di Canon. Questa è semplicemente una cosa inesatta perché io ho collaborato anche con Panasonic che mi aveva mandato incomodato d'uso una macchina e alcuni obiettivi. Trovate i video già pubblicati sul canale quindi vedete che non è vero che parlo solo di Canon. men che meno è vero che io prendo dei soldi per parlare di un brand piuttosto che di un altro. Al momento purtroppo perché a me credetemi i soldi piacciono molto però purtroppo al momento nessun brand né se è per quello nessun attività commerciale di nessun tipo mi ha ancora dato dei soldi per fare un video. Questa è una cosa di cui dovremmo parlare perché a me non piace prendere soldi per fare video. Infatti c'è chi me l'ha proposto ma io ho sempre rifiutato fino adesso perché nel momento in cui mi dai dei soldi si dà per scontato che mi stai facendo fare un video su qualcosa che non mi piace, non mi interessa. Per questo ci sono i soldi di mezzo. Invece io preferisco di gran lunga avere una collaborazione più spontanea ovvero mi piace il tuo prodotto te lo recensisco e non c'è niente di male se me lo mandi per farmelo recensire. Però tendenzialmente io scelgo un prodotto che so già che mi piace. Se devo far perdere tempo a tutti facendovi vedere un video in cui vi dico oggi parliamo di questa cosa però poi vi dico che fa schifo ma non perdiamo tempo, non faccio il video, non perdo tempo io, non faccio perdere tempo all'azienda, non faccio perdere tempo nemmeno a voi a guardarvi un contenuto dove vi dico che un prodotto semplicemente fa schifo. Credo che con questo siamo tutti d'accordo. A questo punto però bando alle ciance e io comincio a farvi vedere una macchina. Ve l'ho promesso, vi ho promesso che avremmo parlato di Nikon. Questa qui era la macchina di mio nonno che poi è diventata la macchina di mia madre e adesso io gliel'ho rubata, quindi adesso è mia. E ora voglio fare una cosa per voi, anche se tutti quelli che hanno detto che non amo Nikon non se la meritano questa cosa. Ah che belli i rumori meccanici di una volta. Questa qui è una Nikon chiaramente a pellicola, qui si apriva, si metteva dentro la pellicola. Vedete che abbiamo l'oculare che ha sempre mantenuto una certa personalità. Abbiamo la scritta Nikormat sul fronte, abbiamo un 50mm f1.8 Nikon e questa era la macchina con cui ho cominciato, che era la macchina che usava mia madre. Mia madre la usava poco, per cui spesso la prendevo io. messa a fuoco manuale, 50mm, una volta si guardava dentro e si doveva mettere a fuoco con un sistema particolare che molti oggi non saprebbero nemmeno utilizzare. C'era un cerchio nel mezzo del fotogramma e si dovevano allineare la parte sopra con la parte sotto e allora sapevi che eri a fuoco in quella zona. Già all'epoca si poteva mettere a fuoco e poi ricomporre, quindi era una macchina con cui sicuramente si potevano fare delle belle cose. Ovviamente era una macchina quasi completamente analogica, non fosse per l'esposimetro. Infatti avevamo un esposimetro interno, era sostanzialmente una lancetta che si posizionava in mezzo o in alto o in basso se era sbagliata l'esposizione. Io cercavo di posizionarla sempre più in mezzo possibile e così riuscivo a portarmi a casa delle fotografie quantomeno decorose anche in un'epoca in cui non c'era il display, quindi non si poteva guardare quello che si era appena scattato. E soprattutto c'era il rullino, quindi se sbagliavi una foto avevi buttato via una foto del rullino. Passano gli anni e mi ritrovo per le mani questa seconda ragazza. Questa qui, come potete vedere, è un'altra Nikon, chiaramente reflex della famiglia che poi ha dato vita alle macchine che conosciamo oggi. Questa era chiaramente una entry level, non era una macchina che non aveva assolutamente niente di particolare, aveva un 2880, una lunghezza focale interessante, f3.3 5.6, quindi non particolarmente luminosa però neanche da sbatter via, con un diametro di 58 mm e una distanza minima di messa a fuoco di 35 cm made in Thailandia. Anche questa chiaramente pellicola, quindi niente display, qui si apriva, si metteva dentro il rullino e avevamo già una parvenza di digitale, nel senso che c'era un display piccolino qua sopra su cui avevamo delle informazioni base, come il numero di scatti residui e alcuni parametri sull'esposizione. Avevamo il bottone dello shutter che si premeva a metà corsa per mettere a fuoco, c'era la messa a fuoco automatica quindi già eravamo andati su un modello più progredito. Questa credo che sia stata la macchina che mi hanno regalato i miei genitori, per forza. È stata la prima macchina che mi hanno regalato i miei genitori con cui facevo le foto delle vacanze perché poi non si facevano foto tutto l'anno una volta. Adesso fotografiamo il piatto in cui stiamo mangiando, ci fotografiamo gli alluci, la zia Ernesta fotografa i suoi gatti e fa 20 post al giorno sui suoi gatti. A una volta le pagavi le foto, quindi non le facevi tutto l'anno, di certo non ti fotografavi un piatto di riso e quindi una volta io la usavo quasi esclusivamente in vacanza, era la mia macchina delle vacanze. F55, bellissima, era abbastanza progredita per l'epoca, chiaramente era a pellicola quindi non è che potevi fare chissà che cosa, però aveva già il suo sistema di messa a fuoco, aveva già il suo bottone on off, lo shutter con la messa a fuoco automatica a metà corsa, aveva i modi di esposizione, io qui vedo che è su automatico, fatemela mettere su manuale, povera cara, è stata maltrattata, probabilmente il me stesso del passato non l'ha usata tanto bene questa macchina, però è integra, perfetta, funziona ancora, basta cambiarle la piletta dell'esposimetro e del sistema di messa a fuoco e funziona perfettamente. Ma andiamo avanti, come sapete la tecnologia galoppa e io qui vi faccio vedere questo piccolo ritrovato di tecnologia che è una compattina sempre di Nikon e adesso vediamo il vano batteria, questa batteria sarà morta ovviamente Lithium Ion Battery Pack EN EL5 batterie che secondo me non fanno neanche più, fatte in questa maniera qui la rimettiamo dentro macchina minuscola, questa Coolpix 7900, abbiamo un obiettivo da 7.8 barra 23.4 mm ovviamente dobbiamo fare il rapporto perché non è un sensore full frame e abbiamo un f2.8 che arriva a f4.9, zoom, Nikkor e D. Chiaramente la tecnologia avanzava quindi vedete che abbiamo il nostro primo display ed era una macchinetta con cui sicuramente già si riuscivano a fare delle cose carine anche questa è in automatico e qui addirittura vedo che aveva la modalità video, le modalità scene però non aveva una modalità manuale quindi le compatte sono andate un po' in quella direzione le point and shoot quindi non si poteva fare quello che si voleva, dovevi prenderti quello che veniva fuori dalla macchina oppure usare le scene e incrociare le dita andiamo avanti, sapete che a me piacciono le custodie questa qui, me la ricordo questa, questa è una macchina che mi regalarono a Natale perché ok che mi avevano già regalato, avevo già fregato la Nikon di mia mamma e poi mi arrivano regalato una Nikon anche a me però questa qui era digitale e quindi non spendevo più soldi per andare a fare gli sviluppi e questa era una gran cosa perché ho potuto cominciare a scattare di tutto anche tutti i giorni la fotografia è entrata nella quotidianità perché con questa, attenzione quella che vi ho fatto vedere prima non era mia, era di papà gli ho rubato anche quella certo, questa invece era proprio mia non l'avranno data per dire, senti, tieni, ciappa questa e smettila di rubarci le macchine fotografiche in giro per tutta la casa quindi mi diedero questa e questa è una Coolpix, non riesco a vedere il modello perché non c'è scritto, c'è scritto solo Coolpix sul frontale ecco qui, Coolpix S620 come potete vedere il display è aumentato di dimensioni, i display sono andati via via aumentando qui abbiamo dei comandi che sono un pochino più friendly, la pressione dei bottoni diventa via via più gradevole sono fatte meglio le macchine man mano che andiamo avanti vano batteria, anche qui, batteria che secondo me non fanno più neanche questa usavano già le memory card SD che conosciamo anche adesso solo che all'epoca una SD magari teneva 200 MB, erano veramente ridicole e le dimensioni dei file ovviamente erano più ridotte qui abbiamo a che fare con un 28 112 mm quindi una lunghezza focale fantastica, con questa si faceva praticamente tutto ed era 12.2 megapixel e aveva già un vibration reduction e un ISO 6400 quindi aveva già dei valori ISO abbastanza alti per un sensorino che sarà stato grande come un chicco di riso poi e aveva lo stabilizzatore e 12 megapixel quindi era una macchina con cui io ho cominciato a rendermi conto io mi ricordo proprio questa è la macchina su cui mi sono reso conto che volevo di più volevo qualcosina di più perché questa macchina faceva delle foto che di giorno erano ok di notte non c'eravamo proprio e comunque anche di giorno ingrandendole a computer vedevi che mancava la definizione per quanto fossero macchine carine e a me dispiace tantissimo perché io avevo un'altra compattina Nikon che mi ero forse comprato io addirittura che era la mia macchina per i viaggi e quella macchina io la regalai alla mia prima fidanzata e lei la tenne in una borsa dove poi mi ricordo che erano esplose delle batterie per cui ci finì soprattutto l'acido delle batterie di un'altra cosa e quindi la mia prima compattina morì così mi dispiace veramente tanto primo perché avrei voluto farvela vedere e secondo perché quella compattina di Nikon che era così ma era precedente addirittura aveva un dettaglio per essere una compatta aveva 5 megapixel mi ricordo aveva 5 megapixel ma aveva un dettaglio semplicemente stratosferico era bellissima come dettaglio foto di urne ovviamente era proprio bellina proprio bellina e mi dispiace ma non ce l'ho più quindi non posso farvela vedere per cui saltiamo direttamente a questa vorrei avere delle immagini da farvi vedere scattate con queste macchine ma la verità è che è passato così tanto tempo e non le ho archiviate sempre bene in vita mia anche perché magari non erano proprio sta bellezza le foto che facevo all'epoca quindi non ho campioni da farvi vedere però questo era per farvi vedere che io col cavolo che odio Nikon a me Nikon è sempre piaciuta io ho sempre scattato Nikon io sono passato a Canon quando ho cominciato a lavorarci con questa roba e sono passato a Canon per un motivo semplicissimo perché ho zanzato la fotocamera di mio padre che all'epoca era una Canon e quindi gli ho preso la sua ho cominciato a fare dei lavori con la sua quando lui non la usava poi quando ce l'aveva bisogno gliela ridavo indietro e da lì poi ho cominciato a capire che c'era stato un salto di qualità da quelle che stavo usando io a quelle che aveva preso papà e però a quel punto sono rimasto con quello che aveva papà perché così avevamo un corredo compatibile quando ci serviva qualcosa insomma eravamo tutti compatibili potevamo pescare e da lì insomma il mio corredo è cresciuto ed è rimasto Canon però non è che io ho abbandonato Nikon perché non mi trovavo bene con Nikon io semplicemente sono passato a Canon per convenienza e ci rimango perché mi sono trovato bene ma a me Nikon è sempre piaciuta e anzi in qualche video l'ho detto io se dovessi scegliere una fotocamera da usare per tutta la vita probabilmente sarebbe una Nikon della serie D700 o D800 perché quelle macchine che ho avuto modo di provare un paio di volte in vita mia a me sono sempre piaciute da matti come corpo macchina e vi parlo proprio solo del corpo macchina gli obiettivi lasciamo perdere che lì mi piacciono tutti Canon, Sony, ne ho provati gli obiettivi bellissimi ce li hanno tutti però come corpo macchina puro la linea della D700 e della D800 di Nikon bellissime proprio come grip, come ergonomia, come sensazione quella è veramente una macchina che mi è rimasta nel cuore quindi col cavolo che a me non piace Nikon a me Nikon piace molto però non ho quasi mai occasione di lavorare con Nikon sono anni che non ne uso una io non ho mai usato una mirrorless di Nikon e quindi per questo non ve ne parlo perché cosa vi posso dire? vi posso dire il colore non l'ho mai usata non la conosco bene quindi piuttosto che dire cavolate preferisco non parlarvene e spero che questo chiuda un po' il cerchio su quest'argomento perché non è assolutamente vero che a me non piacciono gli altri brand a me le macchine fotografiche piacciono tutte solamente che lavorando con Canon ho più occasione di parlarvi di cose che utilizzo tutti i giorni bene amici a questo punto se volete vedere altre fotocamere vintage fatemelo sapere in un commento qui sotto qualcun'altra ce l'ho fatemi anche sapere qual è il vostro brand di riferimento così cerco di farmi un'idea siete tutti canonisti che mi seguite io credo di no qualcuno mi ha detto che usa Sony e che mi segue lo stesso perché comunque faccio il video in cui parlo di una mia macchina è ovvio che parlo di quella ma faccio anche video in cui parlo di filtri di treppiedi di altre cose cioè non si parla solo di Canon si parla anche di tecniche di strumentazioni di lavori che ho fatto di come si fa a fare determinate cose di post produzione cioè non mi sembra che in ogni singolo video ci sia una fotocamera in particolare quindi il bottone è qui sotto io vi aspetto come sempre nei commenti iscrivetevi perché poi vi rispondo con degli shorts verticali e se non siete iscritti poi ve li perdete io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me vi do appuntamento come sempre al prossimo video ciao 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 Grazie.